Non succedeva dai tempi della guerra con l'Iraq. La produzione di greggio iraniano tocca i minimi da 25 anni, dopo che le sanzioni internazionali hanno causato un drastico taglio dei ordinativi. In particolare, sono stati i quattro migliori clienti asiatici a chiudere i rubinetti, Giappone, India, Cina e Corea del Sud. Chiaro l'avvertimento dei paesi occidentali, continuate a processare greggio iraniano e perderete la copertura assicurativa sulle raffinerie. Risultato, ad aprile l'importazione giornaliera di barili è calata del 30%. Un altro colpo per Teheran, dopo che lunedì gli Stati Uniti hanno annunciato manovre per indebolire ulteriormente la valuta nazionale, il real. Negli ultimi due anni ha perso l'80% del valore e ora il governo Obama minaccia di renderlo inutilizzabile all'estero, colpendo le riserve di valuta oltre confine.